Siamo alla festa di primavera, località Monte di Buia, convegno, ecco però è un grandissimo personaggio, mi ricordo che ha fatto tantissimi film, poi era con Aizio Greggio, ecco qua c'è il taglio della carne, vedi come si cucina, la pezzata rossa, la razza friulana, sentiamo, attenzione E' un gioiello, è un gioiello, no no non canta perché se no, è Sting, Sting che cantava, ti assomiglia, parecchie canzoni però adesso non ho il titolo, senta ci faccia riconoscere immediatamente Sì, allora, la mia, ho l'arie, ho l'arie, ho l'arie a Stano, ho le pire ariche Ecco, fa lo splendido, non c'è campo, non c'è campo, non c'è campo, senta dica qualcosa sul Friuli qua, sulla pezzata, sui gioielli Tu non sai, tu non sai, voi non sapete, che mia mamma, buonanima si dice, ora sono dieci anni che è scomparsa, era friulana, di mo giudinese Ma va? Di mo giudinese Di mo giudinese Quindi io so qualche... Radici carniche Sì, ho mezzo sangue carnico Ha visto? Ha visto che il suo papà... Con la tipica... Un pezzata carnica Esatto, sono un pezzato carnico, anche io rosso Ma attenzione, eh Il suo papà sapeva dove andare a prendere una bella donna Sì, ma si sono incontrati sfollati dopo la guerra a Roma Ma guarda te Guarda che... E quindi io sono mezzo sangue Ma attenzione Sono come il navaco Il navaco? E gli faccia assomiglia a un navaco, eh, lei? Sì, è la moglie di un navaco Sì? Una vaca Pezzata, però Ciao Ciao, grazie a tutti i Gorizzi TV Ciao a tutti i Gorizzi TV Ciao a tutti i Gorizzi TV Eccolo lì Signor Assessore? Sì Visto che eri accompagnato di un navaco Sì, un navaco Fate un bel saluto, un bel bacio a tutti Un saluto, grazie Venite in Monte di Buia Vi saluto Benvenuti a Buia Ciao Signore lei scusi Scorpione Ben morire ragazzi Salutiamo Elena Litti Assessore alla cultura della provincia di Udine Ed ecco qua Guarda, guarda, guarda la carne Eeeh... Eeeh... Come ti chiami? Giulia? Alessandro? Hai colore? No, 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 ho mangiato due o tre cosine Ho mangiato il gatto lui No, il gatto Senti a detto, senti a detto E lei o non è lei? E lei o non è lei? E lei? Chi lo sa? Aspetta, è lui il tuo boy E lei è svolta chi ha? Sì E con voi Ma sono sempre le pezzate rosse Hai sentito cosa ha detto quell'attore? Andiamo con la pubblicità Trattoria al Ponte del Calvario Tamirco dal 1956 si trova al Valone delle Acque a Gorizia specializzata in cucina casalinga per matrimoni, cresime, comunioni, feste aziendali per comitive troviamo anche un ampio parcheggio e il parco giochi per i vostri bambini E poi una bella vasca delle trotte, puoi mangiare il pezze tranquillamente appena pescato E allora saluto Miriam, saluto Davide e tutto lo staff di questo grande trattoria al Ponte del Calvario da Mirco da oltre 50 anni, saluto la grandissima Miriam e Davide, un bacio a tutti Fida la pubblicità, so che tu sei Giulia, sei potentissima, adesso andiamo da questi gioielli Guarda qua, primo, scorpione, sai quanti scorpioni che c'erano? Io sono acquario Ecco tu sei acquario, sentiamo lei, questa viene direttamente da Faedis Grazie mille Alessandro da Faedis Ecco da Faedis, lì vedi, anche se hai la tua ragazza, lì ti dico lo stesso Guarda qua, abbiamo i leoni del friuli Venezia Giulia, attenzione Qua abbiamo i tre gioielli, vedi, tre, ce ne sono quattro qua Attenzione, adesso andiamo dai piccolini anche Eccoli qua, qua c'è adesso una bella manifestazione, una cena, tutto a base della pezzata rosa Ecco, un violino in compagnia di una dolcezza, hai visto? Ecco lì, hai visto? Eccolo lì Eccolo lì, adesso andiamo, andiamo fuori, vediamo quanta gente che entra per questa grande festa Tutto è offerto dal comune di Buia? Certo, qua c'era questo bellissimo convegno organizzato dall'Ersa e dal comune di Buia Ecco qua il direttore, il signor Bellini Ecco qua, questo è un grandissimo personaggio Lucma è un grandissimo storico sulla pezzata rossa, proprio la razza friulana di questa mucca Voi con l'agricoltura, come va? Aspetta che andiamo da Calamity James qua un attimo Eccola qua Eccola qua Vedi? Gli ho detto James James, non è possibile, è un uomo, no? Allora andiamo dalla Calamity James Qua ce n'è un altro, eh? Attenzione, rimetto il berettino Eccola qua Eh, sì, eh sì È chiaro, eh, guarda la rossa Guarda la rossa Special che ci tira sull'odio Ci guarda sempre questa, eh, la salutiamo La salutiamo, eh La salutiamo, eh, che ci guarda E questo è il marito, Gerardo E questo non me la portare mica Giulia, gli ho detto E no, eccolo E qua c'è il piccolino che parte E via lui Eccolo lì, vai col berettino No, ha detto, io il taretto non lo voglio Eccolo lì, hai vinto Giulia? E qua c'è il dono Eh, andate piano, piano Bene, andate piano, gli ho detto, eh, mi raccomando Tutte e due in fila Tutte le stime in rossa Eh, perché c'è proprio questa tipica Eccola qua dalla Svezia Cala, metti James Eccola qua Guarda che obiettivi che ha Alessandro, perché non posso dire a Giulia E' tutto Giuliano della Svezia E' dalla Svezia, guardala qua Giulia, diciamogli a Alessandro Ma tanto la guarda in video Buona zona Buona zona Buona zona Buona zona Settiamolo lì, cos'è? Buona zona Buona zona Giulia, è così Eh, che ci dobbiamo fare? Eccolo lì, guarda lì Comunque non va a scosarlo il tuo Tuo uomo, eh, mi raccomando Alessandro, attenzione Oggi che è il primo giorno che ti chiamo Che mi chiamo qua Eh, che dopo non vai fuori con gli occhi neri Eh Ah, ciao, ho visto, ho visto Ecco, vedi, vedi quanta gente Ecco qua Simonetta La mia speaker di quel momento E del Capricorno, eh Chi sposa un Capricorno Non resta mai senza Archei, eh Non resta mai senza Goldi, eh Mia sorella è Capricorno Ecco, allora bisogna sposarla immediatamente Eccolo lì Eccolo lì Alessandro, parla forte Che sentiamo tutti Guarda Vuol dire che cambierà sorella Oiii Ecco Ecco la cantante Valeria Ok, pronti Tu come ti chiami? Sergio Sergio Laura si chiamava Tu? Laura Tu come si chiama? In America Country Band Bene, dove vi trovano adesso al prossimo Sabato Il resto del Beard Al Beard Sì, sabato C'è qualcuno che vi dice di muoversi? Eccolo Vai Eccolo lì Ed eccolo lì Lui invece? Lui? Il super chitarista Ezio Ezio Ecco Laura Il segno dove cale, Laura? Scorpione Vedi, dato Scorpione Guarda che potenza Questa è la cantante del gruppo Dì a tutti i tuoi fan Cercate di esserci A tutti i nostri A tutti i nostri concerti Ma certo Io e Alessandro saremo in prima fila Sicuro È vero Giulia? Attenti Eccolo lì Vedi, ha detto attenti Attenzione Guarda come che canta Laura Dello Scorpione Un complesso internazionale Country Suona in tutta Europa È un complesso veramente Especiale Ascoltiamo Ti piace il country? Sì, sì E te Alessandro? Sì Eccolo lì E Alessandro E' questo per Per veramente tanto Ecco Bravo Alessandro Vai Vedo che Giulia È attenta Attenta a questa musica Hai preso anche tu Il fazzoletto della pezzata rossa Come ricordo Mi hanno regalato il berettino Io sono Jessie James Perché gli davo la nomea a queste ragazze Jessie James Invece è sbagliato È Calamity James No? Sì Bene Comunque c'ho il berettino Mi hanno regalato il berettino Guarda che potenza Questa cantante Dello Scorpione Laura Mi sembra di vedere Alessandro Dito L'ora che mi piace questa musica Sì, sì Ehi là Ehi là Eccolo lì Bene Giulia Hai visto tu Il tuo Spidanzatino Dov'era Sì Eccolo lì Ed eccolo qua Guardilo qua Che gioiello Guarda che roba Guarda Giulia Guarda che roba Che piccolo Guarda che grande il berettino Sì Eccolo lì Tutto contento Guarda Oplala Vedi Tutto interessato Ciao ciao Ti piace moltissimo questa musica Country Che è veramente molto bella Un complesso Che suona in tutta Europa È un complesso veramente eccezionale E oggi era esclusivamente a buia Ed eccolo qua Il gioiellino Bene Allora cosa mi puoi dire di questa festa Giulia Immediatamente Ma molto Molto bella Si è anche trovata una giornata bella Col sole E allora dobbiamo invitare gli amici di Trieste Gli amici di Gorizia E tutto il friulio di Venezia Giulia Di andare A buia A buia A buia naturalmente Qua c'è un'altra Pezzata rossa friulana di Nazza Benissimo Guarda Calamity James Con i capelli rossi Giulia Guarda che roba Hai visto Alessandro dove sei? C'è Alessandro C'è Alessandro E sotto gli sgrimpi di Giulia Attenzione E stare attento Attenzione Bravo Ecco qua Guarda quanta gente che c'è Guarda quanta gente che c'era Per dire No? Ieri c'era Perché ho lavato fino a questa mattina Alle 4 Cari amici Bene Allora adesso Andiamo Agli ultimi fasi Di questa grande festa Eccola Melina Innamora Ed ecco Chiudiamo con questo complesso Eccola qua Vedi il complesso Delle pezzate rosse Friulane Allora ricordo cari amici Ricordo A buia a tutti Mandi